Tre nuovi prodotti appena arrivati che non possono mancare tra i tuoi kit di New Martin Ho combatto da due anni ormai per farvi capire che il telefono fa parte del vostro outfit Perché se voi vi vestite bene e poi avete tra le mani il telefono in pessime condizioni Schifoso, vuol dire che avete spento tutto Perché il telefono tra le mani ce l'avete tutti, nessuno lo sa lo mette in borsa, nessuno lo sa lo mette in... Cioè è veramente difficile, sono quei pochi casi che non sono social, che lo stanno sempre col telefono Beati vuoi però, beati vuoi veramente Comunque, quando io mi vesto bene, devo avere sempre il mio telefono abbinato al mio look E questi prodotti sono i miei laccetti phone strap Prometto col dire che questi sono i prodotti più amati di New Martin I laccetti phone strap sono disponibili veramente in tanti colori diversi Però io ho fatto dei colori che mi avete chiesto voi, tranne uno che l'ho inventato io Vi spiego anche perché l'ho inventato e lo amerete Primo colore disponibile è il laccetto mix Il mix già c'era, già era presente e l'abbiamo fatto la prima volta Quando abbiamo inserito i laccetti tra i nostri prodotti Poi non l'abbiamo fatto più per dimenticanza, vi dico la verità E voi ce l'avete richiesto tutti quanti Il mix ha tutti i colori caldi, nero, marrone, bianco Bianco non è caldo, però i colori neutri, scusatemi E sta bene veramente veramente con tutto Quindi quando prendete una cover e non sapete che l'accetto abbinare Andate di mix 4,99, solo Dani Martina, guardatelo Secondo colore che mi richiedete sempre Perché me lo chiedete blu ma io ce l'azzurro L'ho fatto anche blu perché avete ragione C'era nero, c'era bianco, c'era azzurro, c'era verde Non c'era blu Blu notte, eccolo qua Veramente veramente bellissimo Sempre da 4,99 Blu navi, blu notte, blu ettone Come volete voi, come lo volete chiamare voi così lo chiamate Da 4,99 Soprattutto quando indossate i colori neutri come lo indosso io adesso Sta veramente veramente benissimo Però ora il rullo di tamburi che vi mostro la perfezione Guardate Quest'ultimo l'ho pensato al mare Io al mare personalmente gioco tanto con i colori Sempre in modo sobrio, elegante, fatto bene ragazzi Quindi mi piace indossare, copri costumi colorati Costumi colorati Mi piace veramente avere questi outfit bellissimi per il mare E quindi non potevo non fare questo laccetto Io so che chi mi segue è proprio come me Quindi questo laccetto non può mancare Questo è un telefono martinizzato E questo è il nuovo laccetto Immaginatelo al mare con un bel costume colorato Perché il telefono non lo vogliamo perdere Tipo andiamo sul video con i nostri amici Oppure andiamo a fare un aperitif E non può mancare Laccetto fa un strap arcobaleno Porta veramente tutti tutti i colori E in più vi faccio vedere anche come indossarlo A me piace questa lunghezza qua In modo che cammino e non mi dà fastidio E in più è stretto Quindi sono sempre sicura che il mio telefono con me E poi io lo vado a indossare così Perché tutti lasciate questi fili così Ma in realtà non funziona così La parte questa qua Con l'attacco in oro Va sulla spalla E in più andiamo a fare il nostro fiocchetto Così facciamo un fiocchettino Facciamo metà e metà In questo modo Vedete? Adoro troppo Mi piace veramente Veramente tantissimo E questo è il nuovo colore Secondo me fantastico Arcobaleno da 4,99 Quindi riepiloghiamo tutto Arcobaleno 4,99 Blu notte 4,99 E mix adatto a tutte le cover Da 4,99 Voi quale preferite? Scrivetelo nei commenti Se vi piacciono Vi invito ad andare sul mio sito E in più a venire in negozio Dai venite un po' Vedete